coruzzi maurizio nato nata bo il 4 novembre 1955 non si direbbe ma sono molto più anziana sono a torino per il film essere divina film docu su come si fa a diventare drag sempre che ci sia una scuola che ti insegna a farlo io non conoscevo l'esistenza di questa scuola per drag non conoscevo luca sono venuti a cercarmi mentre io stavo a roma a fare ballando con le stelle e quindi in un momento in cui cercavo di perdere quei duetti che mi servivano per sopravvivere e ciò che mi ha convinto intanto non era una richiesta esagerata c'era soltanto da offrire come dire la testimonianza di un vissuto e dato che il mio in particolare nasce in un momento particolarmente intenso della vita e della movimentata vita degli studenti italiani degli anni 70 senza citare i soliti noiosi numeri ma io sono un figlio della bologna del 77 quindi poi di tutto quello che ne consegue e di quello che ovviamente era venuto prima c'è stata questa chiacchierata che si è poi risolta in un'intervista spezzettata appunto in varie parti di di essere divina un clima che l'ho sottolineato più volte anche con luca non solo non mi appartiene ma mi è lontano miliani luce perché mi fa molta simpatia o una grande invidia di chi ha ancora delle aspirazioni e crede che attraverso un corso possa realizzare se stesso e mi fa molto piacere che accada perché signor che l'illusione non viene mai a mancare e l'illusione è un cibo fenomenale per l'esistenza detto ciò però io sono molto più conservatore di quello che sembra per cui faccio un po fatica ad accettare come dice la d'urso che la normalità avere dei gay in un programma televisivo quando tutto diventa normale è il momento di cominciare a preoccuparsi allora io ho conosciuto la scena drag e il gruppo che per primo mi ha fatto conoscere questo mondo siamo a metà degli anni 70 io appena conseguito il mio diploma magistrale sono maestro in cerca di occupazione mi iscrivo al dance a bologna nato peraltro in quegli anni e trovo sul mio percorso una sera in una città molto vivace come è stata la mia oggi lo è un po meno ed è parma un gruppo come questo che in un club dava una serata il titolo dello spettacolo era la difficoltà di essere omosessuale in siberia che cavolo è ho riso credo come mai prima nella vita perché gli attori le attrici erano orrende come me sporche puzzavano mi piaceva questo mondo raccogliticcio messo su sembrava con una specie di colla che non tiene per attaccarsi tutti i pezzi la provvisorietà ecco e quindi tutto il mio percorso da lì in poi che ho una quarantina d'anni abbondante di questo è teso a non diventare mai conforme a quello che faccio allora non ho mai nascoste continua a non nascondere che mi piacciono le cose ad esempio in teatro questo stile dell'esagerazione diventato un must con un autore come copy che è l'avere comunque sempre lì per con noi di per mercare lì per la voglia di esagerare in tutto è una formula per me di stimolo è come fare una università della terza età cioè non farsi mai mancare l'opportunità di pensarla con la testa altrui perché molto spesso la nostra non ha ragione o meglio conosce una ragione non le conosce tutte parlando del passato e della scena drag in generale ci sono molti esempi e riferimenti che si possono fare se citiamo appunto autori di 30 40 anni fa come Alfredo Cohen citiamo l'autore di Alexander Platz di Milva non è che stiamo citando così come vuol dire Paolo Conte è l'autore di Tripoli 69 di Patti Bravo non è che ciò che mi piace molto in questo tipo di cultura è la mescolanza allora se mai si riuscisse a fare qualcosa che da una parte è quel mondo lì è Arbasino mai lei non so se ancora a scuola si legga o si studi no ma io nel 1972 alla maturità magistrale chiedo di portare Moravia con un insegnante italiano complice meravigliosa la quale mi dice sì porti Moravia ma fai anche una materia supplementare allora era musica perché per i maestri poi devi andare a insegnare ai bambini a suonare a cantare a fare qualche cosa dico bene allora scegliamo insieme una canzone è sceso una canzone di Vecchioni che era l'uomo che si gioca il cielo ad Adi a Sanremo di qualche mese prima quindi osare da una parte nel rispetto della tradizione sembro la Milly Carlucci ma è vero nel senso che mi piace affrontare mi è piaciuto allora cantare Vecchioni davanti a una commissione d'esame come mi è piaciuto studiare Moravia perché non si studiava a scuola ma avevo una complice ora se riuscissimo a mettere insieme le drag che oggi appaiono e compaiono e scompaiono e sono un po' ovunque ho visto anche nei talent e invece a quel tipo di cultura fatta di molta leggerezza e cito nove sole che è Paolo Poli insuperabile in questo allora metto insieme leggerezza e profondità ma non vedo e me nessuna rete la normalità non è mai tale quando tu sottolinei le differenze sia che siano a tuo favore a tuo sfavore quando ho sentito allora io ho un dente avvelenato in questo periodo neanche in maniera molto nascosta con Milly Carlucci perché ho chiesto tre anni fa dopo aver fatto Sanremo con una canzone che parlava di identità di genere quindi mi sembrava perfettamente attinente a quello che avrei poi voluto fare ballare con il mio partner di allora che era Raimondo Todaro entrambi da uomo perché la canzone il tornello dice io non so mai chi sono eppure sono i vivo non mi è stato permesso di farlo allora oggi mi si dice che la televisione sia pronta e che siano i tempi sarà anche così e mi fa piacere che sia così allora se oggi la normalità è che Ciacci balli con Todaro e se è normalità che Rafferilli faccia un programma con le transgender se è normale come pare che io poi tra poco faccia un il primo talent per travestite va tutto bene non è la differenza ciò che mi scoccia ma pensate perché non dovrebbe esserci un gay nel mio programma perché dovrebbe esserci questa è la domanda cos'è una quota rosa cos'è un non vedente che va comunque fatto a lavorare a un centralino se no non ha un lavoro e è questo che non tollero il fatto di essere noi i primi a discriminare questa è una forma di razzismo nessuno chiede se è in studio 8 o 8 eterosessuali e due gay solo per quello quindi quando tutto diventa normale io guarda lavoro tutti i giorni una radio cui slogan è very normal people immaginate come possa però non è la normalità un concetto relativo non è un concetto di orientamento sessuale la normalità è se tu ciò che vedi che non ti assomiglia ma che ti può incuriosire non ti disturba al punto tale che ti può addirittura arricchire che puoi trovare simpatico guarda queste poi te la chiudo presi una sera presentano un libro un libro da venire una mia amica da una vita allora vado e mi accompagna andiamo pioveva di rotto ci sediamo in questa sala dove avveniva la presentazione di di fianco alla sexy si siede l'ex marito della santa anche il direttore giornale salusti le dovevi vedere due comari che hanno cominciato a parlare non so di che cosa non so se dei rifacimenti della santa anche non lo so ma te la vedi questa qua voglio dire da zocco alla tirata su dei marciapiedi con saluti che chiacchierano io ho detto fermi tutti foto immediata perché questo è il concetto in cui nulla spaventa più nessuno se tutte le varie persone che fanno parte del cerchio più o meno magico hanno voglia di conoscersi